Un carico di 41 motociclette risultate rubate a Catania e provincia è stato sequestrato nel corso di un servizio notturno di controllo del territorio da parte dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Le moto, in parte già stivate all'interno di un container con motrice maltese, erano nascoste sotto voluminosi sacchi contenenti indumenti destinati alle popolazioni africane. I militari della compagnia di riposto, durante una perlustrazione eseguita nella notte tra venerdì e sabato scorso, lungo le vie di comunicazione della campagna mascalese, erano stati insospettiti dall'illuminazione di una zona isolata di campagna, in cui alcuni individui stavano furtivamente caricando in un container merci voluminose imballate in cellofan. All'avvicinarsi della pattuglia, i quattro soggetti presenti, approfittando dell'oscurità, hanno provato a darsi alla fuga, ma due di loro, di nazionalità nigeriana, sono stati bloccati dai militari. I due, insieme all'italiano che ha in affitto il terreno agricolo, un pluri pregiudicato con obbligo di dimoraggiarre, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.